a ciao a tutti ragazzi sono ganso ed oggi dopo un sacco di tempo sono tornati sugli skywars lorix che cazzo stai facendo no niente è volato io che cazzo ma che cazzo sta succedendo ne manca una lina sono qua sono qua vabbè comunque c'è lorix che cazzo è successo è esploso un cadavere ma che cazzo sta succedendo finalmente minecraft premium scusate se non carico video da un botto di tempo ma la scuola rompemi il cazzo ma un culo a tutti no scherzo dai bella raga vabbè raga andiamo su skywars ma che troppo che sta merda qua ma che cazzo è skywars dove sei madonna non c'è skywars come c'è skywars come c'è skywars ragazzi siamo su minecraft e ma è un club se non l'avete notato ma è un club 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 non abbiamo sbagliato un cazzo non rompere non è finito il video di di skywars non l'ora dove cazzo è questo skywars non c'è skywars è tutta colpa tua facciamo master build ma che cazzo è non so nemmeno cosa sia vabbè facciamolo e basta devi costruire capito master builder eccomi entro più clicchi col destro e vai sul server che cazzo è perchè sei sopra di me scendi 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 oh dio ciao allora vai su master build non nel portale devi cliccare sull'omino non puoi prendermi in braccio tu perchè è tutto il tifo chi cazzo è sto tatovalle tatovalle io che cazzo devo fare ma oggio 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 bullpizza ok pizza pizza ma è questo che faceva step non è lì aspetta si oggio eh cosa cazzo ha fatto aspetta la pasta allora la pizza pizza eh come cazzo si fa la pizza nooo non lo so fare papà devo fare un piatto un piatto un piatto e dove cazzo è il quarzo il quarzo eh una pizza non tanto grande no ma che cazzo sto facendo è tipo è bruttissima no 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 vabbè non c'è il tempo qua mi pare non lo so c'è il tempo 4 minuti dove cazzo lo vedi su 4 minuti ok il piatto è fatto ok il piatto è fatto ma cosa non ditemi che non assomiglia una pizza infatti non assomiglia è deve essere rossa quindi rosso allora i dettagli dopo i dettagli dopo vaffanculo rosso così ok questo è 3 minuti oddio 3 minuti oddio 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 c'è sono seri come cazzo fanno a fare queste cose ok 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 ci sono messo il sugo io ho messo il sugo io ho messo il sugo ho messo il sugo ho messo il sugo la mozzarella la mozzarella mettiamo la mozzarella qua sulla qua dai questa è una cazzo di foglia di basilico assolutamente no 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 non riuscirò a fare un cazzo almeno il coltello il coltello la forchetta la forchetta si può fare 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 io ho finito quello che è venuto è venuto ma fa schifo fa schifo fa schifo fa schifo non c'è che cazzo devi vedere la mia fa schifo no dobbiamo votare dobbiamo che cazzo è sto schifo nooo super pop ma c'è un po' qui me io gli metto my eyes are bleeding my eyes are bleeding cruda ha schifo che cazzo è sto schifo vabbè questa va bene questa va bene questa va bene good good vabbè no good vince perchè non mi ha fatto schifo e vabbè io ci ho messo me io ci ho messo good e perchè ci sta ok ma si vota col tassero e questa è bella no l'ho fatta la stessa si vota col tassero ma fa il culo ma i eyes quello rosso il zombie chi di chi di chi ah questa li batte tutti con le teste di zombie che schifo ah ma sarebbero tipo cazzo so è tipo schifo ecco cos'è le olive olive e salame madonna che schifo francese no per sbaglio ci ho messo tipo amazing una cosa del genere cazzo che cazzo è sta merda la pizza del mech che cazzo è sta merda che gommino se il macadonna della famiglia ma i sarblit ma be fa cagare questa è la migliore raga questa è la migliore loretta non dimmi che è la tua si è la mia ma che si fa ma che si fa guardi do il mio pizzo ok abbiamo pochissimo tempo ma sei un bastardo ecco la mia guarda 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 mettici passifo un cazzo di wow ah non posso notarla dai è bellissima guardala dai seriamente guardala è epico ma è una forchetta di merda fa cagare questa è bella questa è bella questa è bella ma cosa era più bella la mia che merda chi ha vinto chi ha vinto si è arrivato terzo io si no cazzo io sono arrivato penultimo no che palle vabbè raga come prima volta nella top 3 ci sta va bene facciamo un altro comunque assolutamente è bellissimo ma non vuoi imparare la pizza la pizza non la so fare io come gli americani stanno cominciando come si fa a partire ma siamo un po' luce ragazzi cosa dobbiamo fare eccoci vediamo burda una casa house ma tu sei fuori vabbè ma questo è facilissimo ma che facilissimo che non lo so fare ma tu non sai fare un cazzo non è frattibile dai allora ma è facile ma è facile un cazzo io posso fare una casa grande come la rifaccio a chiudere raga comunque sicuramente faremo altri video di questo genere perché oddio mi piacciono mi piacciono mi piacciono Lorix e spero anche che vi piacciono non so c'è il re ti piace per queste cose eh oddio Lorix è provato eh spero sto concentrato se non rompere eh gli sto facendo una casa di merda 30 secondi 30 secondi 30 secondi Lorenzo 30 secondi e che cazzo vuoi non ho fatto un cazzo ragazzi non ho fatto un cazzo eh o mi sono mi sono nel tetto quanti secondi guarda quanti secondi guarda quanti secondi il tetto almeno il tetto cazzo almeno il tetto almeno il tetto almeno il tetto una porta non ho preso la porta nooo nooo dai la mia è figa eh è vero che cazzo è sto schifo ahahah di chi è sta merda ma proprio mai iSarts blending ma cos'è sta che cazzo è sto schifo madonna ahahahahahahahahah che cos'è questo un cane che caga che cos'è questo un cane che caga assolutamente ma iSarts droga ma iSarts bleeding che bello allora mettimi amazing voglio andare sul foglio questa cos'è 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 sta merda ma iSarts droga esplodi voglio vedere esplodere cos'è questa cosa ahahahahah ma che cazzo è è il cazzo della mia almeno la mia è vero che non ha la porta ma un tetto fino ma che cos'è un buco per i ratti cazzo è sta cosa ecco la bellezza di chi cazzo è sta cosa non lo so ma che merda è ma 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 l'hai fatta tu ahahahahah ma che cazzo fai e questa è bella questa ci sta no assolutamente a me piace assolutamente beh it's ok dai io non mi inizio amazing se non mi metti amazing ti rompo la vita la mia è bellissima ecco la mia ecco e che merda non ho avuto il tempo ma la porta dov'è e la stavo facendo l'ultima volta ma io hai sasto BOOM nooo ahahah questa è bella questa ci sta ci lo metto mai questa è bella ma i wow everything più giù eh in my house GUNS IS RIPPLE ahahahahah guarda che gli ho scritto ma che cazzo gli ha messo un pisello in casa ok solo per il pisello questo ci metto un GUNS questo my everything tutto ha vinto la vita questo ecco chi ha vinto? eh lo sapevo io che vinceva questo eh vabbè questo anche se faceva tagliare però che gusti di me ne facciamo un altro? assolutamente c'è un altro? si ok 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 ecco 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 ecco